Oltre 15.000 studenti e 230 docenti coinvolti, 222 gare e 29 discipline. Sono questi i numeri record dell'edizione 2018 dei campionati studenteschi che anche quest'anno coinvolgeranno tutte le scuole e tutti i comuni della provincia di Arezzo. Raggiungiamo il 60% degli studenti delle scuole medie e superiori, quindi per noi è una diffusione capillare dell'attività sportiva, è una cosa fondamentale per la crescita degli studenti e della comunità. Siamo un'azienda pubblica che continua a esercitare la propria responsabilità sociale e lo sportano dei veicoli principali per restituire al territorio i risultati che otteniamo nel mercato. A me fa particolarmente piacere sostenere le buone progettualità del provveditorato, dell'ufficio scolastico sportivo e del CONI, in questo senso proprio perché si riscoprono gli antichi giochi della gioventù che sono stati riproposti negli ultimi anni sotto forma di campionati studenteschi e grazie ad Estra hanno ottenuto un risultato molto importante. Io come rappresentante del mondo sportivo voglio ricordare quello che fa Estra in riferimento alle società sportive di Arezzo, quindi noi assistiamo a un interessamento particolare specialmente sul settore giovanile, che vuol dire che c'è una sensibilità verso la promozione di un'attività che può incidere positivamente sulla crescita dei nostri ragazzi. L'amministrazione comunale Aretina inoltre metterà a disposizione degli studenti alcuni impianti sportivi comunali della città. Mettiamo a disposizione questi impianti anche per delle politiche di integrazione sportiva perché uno dei punti fondamentali di questi momenti che mettono insieme scuole e sport è anche la capacità di fare delle competizioni che non tengano nessuno distante dalla possibilità di essere protagonista. Quest'anno infatti i campionati studenteschi mirano a diventare inclusivi, saranno sperimentate attività motorio-sportive integrate all'interno dei campionati. Cercheremo di pianificare, di pensare e di mettere in pratica una serie di attività sportive appunto unificate dove alunni con e senza disabilità possano mettersi in azione insieme. La grande festa finale in programma per il prossimo 18 maggio allo stadio di atletica di Arezzo. A noi interessa portare i ragazzi a vedere vari sport, poi sceglieranno quello che più gli piace o conosceranno anche un po' l'adrenalina di una gara che altrimenti non avrebbero mai fatto. Grazie a tutti.